Angelus Domini Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pegatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ece, Ancilla, Domini, fiat mici, secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pegatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro, factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pegatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ot digne efficiamur promissionibus Christi, oremus. In gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ot qui Angelo nunciante, Christi, fili tui incarnationen cognovimus, per passione meus et crucem, ad resurrezionis gloriam perducamur, per undem Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicud erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicud erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi amici di Radio Domina Nostra, ben trovati all'appuntamento con il Catechismo di San Pio X spiegato da Carlo Tommaso Dragone. Abbiamo visto l'aggancio che San Pio X compie e opera con i Prolegomena, come anche si possono chiamare, o i Preambula Fidei. E il tema poi è scatologico, cioè da chi veniamo, veniamo da Dio, chi ci ha creati, ci ha creati Dio, perché ci ha creati, per conoscerlo, amarlo e servirlo in questo mondo e poi goderlo nell'altro. Ed è qui che allora, come abbiamo visto ieri, San Pio X decide di concedere una anticipazione del tema escatologico, cioè dell'esistenza dommatica, perché sono dogmi di fede, dell'esistenza dommatica del Paradiso e dell'Inferno. Ho visto in questi giorni che ho letto stamattina con più attenzione il Manifesto della Fede del Cardinal Müller e lo trovo molto interessante, ma provo un grande dolore. Neanche lui sa quanto io, il Cardinal Müller, dovrà rendere conto a Dio del fatto che un prete come me, scomunicato due volte da Bergoglio, rimane scandalizzato da uno come lui, cioè come il Cardinal Müller, che se fosse vero quello che ho letto su Gloria TV, intervistato da un canale tedesco, mi pare tedesco, inglese, ha detto alla domanda diretta, perché nessuno è stupido, ma allora per lei Francesco, il Cardinal Bergoglio, è eretico, risposta del Cardinal Müller, no, non è lui eretico, lui è molto invece convinto della fede cattolica, è un buon papa, e sono i collaboratori che non funzionano. Bene, io so che questo dolore che porto nel cuore si fa piaga, piaga sofferta, perché vedo proprio la inconsistenza di queste manovre. Cioè non serve più annunciare il dogma, perché io non capisco che annunciamo il dogma della fede se poi abbiamo il lupo in casa. Non è che alle pecore che vengono sbranate, mentre i denti famelici del lupo lo azzannano la pecora, allora il pastore dice alla pecora, guarda, ti sta azzannando lì perché i collaboratori gli hanno detto, ma figlioli cari, ma realmente sono solo io che mi accorgo di questo. Ieri sera ho ascoltato con grande interesse la Catechesi di Don Pietro Cutuli, mi pare che si chiami, che stimo molto, le ascolto con molta attenzione, e mi danno molto le sue Catechesi. Ieri ha fatto tutta una bellissima Catechesi su questo manifesto della fede del Cardinal Müller, poi anche stamattina leggevo, ma forse sarà meglio che io mi ritiri in una spelonca, guardate che dico sul serio, figli cari, il dolore sta diventando eccessivo, anche perché Benedetto XVI, Santa Pace, non spende una sola parola, e lui sa che io dico il vero, perché a me non l'ha rivelato il mondo. Ecco, stavo dicendo che Monsignor Schneider, anche lui, è contento delle dichiarazioni del Cardinal Müller, quindi in pratica per farla sintetica andiamo al tema dell'inferno, forse non era migliore premessa se non quella di sapere che cosa c'è dentro la Chiesa Cattolica oggi, il dolore è immenso, è sconfinato, questo Don Pietro dice di aver avuto un momento di profonda crisi piangendo profondamente, l'ha raccontato lui, ha pianto moltissimo, tantissimo per quello che c'è dentro la Chiesa, lui ha pianto tantissimo, e allora io cosa dovrei dire caro Don Pietro, ma perché mi ignorate, perché fate finta che non, perché mi trattate come se fossi una mina vagante, quando vi renderete conto che siete inconsistenti se non dite chi è il lupo, alle pecore va detto chi è il lupo, altrimenti non servono a nulla tutti i proclami e gli allarmi che fate, ma è possibile che nessuno abbia il coraggio di venire fuori? Ma io rimango davvero, e tutta questa responsabilità certamente in buona parte a dire il vero, fioli miei, per noi del piccolo resto, non vorrei che adesso anche su Benedetto XVI, insomma voglio dire che il suo silenzio, come abbiamo tante volte detto, è come Mosè sul Monte Sinai, va bene, e poi anche questa storia del silenzio, del terzo segreto di Fatima, va bene, però questo sarebbe veramente il momento in cui anche una sola sillaba possa aiutarci, insomma sentir dire al Cardinal Müller che Papa Francesco è ortodosso, è cattolico, che non è eretico, e che sono i collaboratori che lo conducono a questo, dico la verità, mi vergogno di queste dichiarazioni, sono indegne, mi dispiace, io non ho più nulla da perdere ormai, non ho più nulla da perdere, quindi sono più libero di tutti, mi fanno pietà queste dichiarazioni, provo un senso di sconcerto, mi sento ferito nella mia dignità di uomo, di prete e di cattolico, quando uno come il Cardinal Müller esce allo scoperto facendo il manifesto della fede, chi caspita sta mettendo in discussione la fede, non lo so io, va bene, torniamo al nostro tema oggi, il punto 16, dopo avere trattato del Paradiso, per cui come dice San Pio X, siamo fatti per il cielo, ma non tutti si andrà in Paradiso, ecco non esiste, dicevamo ieri concludendo un happy end, per cui leggiamo la domanda numero 16 che introduce il tema della dannazione eterna, dell'inferno, domanda, i cattivi che non servono Dio e muoiono in peccato mortale, che cosa meritano? Sapete tutti che Bergoglio, evidentemente gliel'avrà scritto come dice Müller qualcuno dei suoi collaboratori, è Bergoglio che probabilmente non ha identità, a questo punto Müller offende Bergoglio, capite? Se cerca di pararsi in realtà lo sta offendendo, perché a questo punto se subisce delle pressioni dai collaboratori e non ha forse una personalità, Bergoglio ha detto che le anime di quelli che muoiono in peccato mortale si annientano, questa eresia conclamata. San Pio X infatti dice, i cattivi che non servono Dio e muoiono in peccato mortale meritano l'inferno, ecco, cioè chi muore in peccato mortale merita l'inferno. Padre Dragone cita il testo del Vangelo di Luca, la parabola del ricco e pulone, di cui appunto parla il Vangelo di Luca, che non serviva Dio osservando la sua legge, ma le proprie passioni e quando morì fu sepolto nell'inferno. Dunque i cattivi che non servono Dio non andranno in paradiso. Chi sono i cattivi? Perché vengono chiamati cattivi? I cattivi sono coloro che peccano trasgredendo la legge dei divini comandamenti. Ci sono i dieci comandamenti e questi sono la norma morale, c'è una legge anche naturale, chi non osserva i comandamenti deraglia, chi non osserva i comandamenti si perde. Non servono Dio, i cattivi, ma le proprie passioni, il mondo, il demonio, sono quelle tre componenti che già i maestri di spirito mettevano in luce, e cioè che ci sono tre nemici dell'anima. Il mondo, perché ci attrae e ci porta lontano dalla preghiera, dalla fede. Satana, perché il diavolo vuole che perdiamo Dio, e poi il nostro io anche, la nostra carnalità appunto. Ecco, i cattivi sono quelli che cedono alle passioni. Giuda, dice padre Dragone, invece di mettersi al servizio del maestro, pensava solo di accontentare la propria avarizia e si è perso. I cattivi, potremmo dire con linguaggio biblico, perché San Pio X li chiama i cattivi, noi potremmo chiamarli i empi con linguaggio biblico, no? I empi. Ecco, i empi, essendo privi dell'amicizia divina, perché chi è nel peccato mortale è senza Dio. La differenza tra il peccato veniale e il peccato mortale è proprio questo. Il peccato veniale allenta il rapporto con Dio, lo interferisce come quando una volta, e mi ricordo quando ero piccolo, non arrivava più il segnale Rai e arrivavano quelle onde, no? Ecco, il peccato veniale è questa roba qui. Invece il peccato mortale rompe, spezza l'amicizia con Dio. Allora gli empi che vivono nel peccato mortale, essendo privi dell'amicizia divina, anche se compiono qualche opera buona, non meritano il premio eterno che il Signore ha preparato per quelli che lo amano. E dice San Pio X che quelli che muoiono in peccato mortale meritano l'inferno. Ecco, chi muore col peccato mortale senza essersi prima riconciliato con Dio è privo dell'amicizia divina, questa privazione dell'amicizia divina si chiama grazia santificante, cioè noi coi sacramenti riceviamo la grazia santificante. Ecco, la grazia santificante opera in noi e ci tiene un rapporto di amicizia con Dio ed è quello che dobbiamo particolarmente curare nella nostra vita quotidiana fin tanto che Dio non ci chiamerà a sé. Ecco, noi siamo chiamati a stare in amicizia con Dio durante questa vita terrena. Tutti i nostri sforzi, come i maestri di spirito ci insegnano, consistono proprio in questo, nel non perdere col peccato mortale la grazia santificante. Ora, ci sono peccati mortali come atti singoli, ma guardate che ci sono peccati mortali come strutture vere e proprie. Per esempio, chi fa parte della massoneria è nel peccato mortale, per dire uno. Chi fa parte delle associazioni a delinquere, chi corrompe, chi fa del male agli altri per arricchirsi, chi per fare carriera, firma, documenti nei quali vende l'anima al diavolo e costruisce una società dove i validi, i competenti, quelli che meritano, vengono emarginati e vanno avanti quelli che invece sono raccomandati da queste logge. Tutte queste sono condizioni di peccato mortale nelle quali l'anima marcisce lontana da Dio. A cosa serve conquistare il potere? Vi guardate il dottor Faust di Giete, quando poi si perde l'anima. E Gesù nel Vangelo ce lo ricorda, a che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima. Pertanto chi muore privo della grazia santificante perché ha commesso un peccato singolo, di peccato mortale, o perché ha vissuto in una condizione permanente di peccato mortale. Ecco, non può essere ammesso alla felicità dei giusti in paradiso dove non può entrare nulla di macchiato, nulla di impuro, perché Dio è somma perfezione e come dice la scrittura egli trova difetti anche nei suoi angeli. Gesù ci fa comprendere questa verità nella parabola delle nozze, vi guardate, entrano tutti a nozze, ma colui che si era introdotto nella sala del convito, il convito è figura del paradiso, della festa eterna che ci aspetta quando finalmente saremo per sempre con Dio, e c'è un tale che entra senza la veste nuziale. Che cos'è quella veste nuziale? È il simbolo proprio della grazia santificante in noi. Cioè la veste nuziale dei convitati indica il fatto che in paradiso potremo andare unicamente soltanto se moriremo in amicizia con Dio, se moriremo in grazia di Dio. E il padrone ordina che il tale che è entrato senza veste nuziale, quindi senza la grazia di Dio, ecco, venga legato mani e piedi, è gettato fuori nel buio della notte e nel freddo invernale. Ecco, ma a questo punto la domanda 17 va nello specifico. Che cos'è l'inferno? Amici cari, poi ripeto, questi sono solo agganci scatologici che San Pio X decide di fare in relazione ai prolegomena fidei, cioè ai preambula fidei. Tuttavia, e quindi sarà trattato più avanti, tuttavia guardate che vorrei subito dirvi una cosa, che se notate, e Dio ha permesso che avessimo più descrizioni, non provate a notarlo, guardate che io ho approfondito molto il tema scatologico, quindi parlo a ragione veduta, e cioè abbiamo più descrizioni dell'inferno e in qualche modo anche del purgatorio, che come vedremo è una realtà dommatica che esiste anche se neanche più Benedetto XVI e Giovanni Paolo II apertamente l'hanno più affrontato questo tema. Giovanni Paolo II ci ha provato. Comunque, l'unica realtà dommatica del quale abbiamo poche notizie è il paradiso, perché appunto Dio si riserva di sorprenderci, ma dell'inferno abbiamo delle esperienze significative di santi, e non parlo di esperienze quelle del coma, dell'entrare in quelle tunnel lì, esperienze come si chiamano, di premorte, attenzione, non parlo di quelle, parlo della visione dell'inferno per esempio da parte del dottore della chiesa Santa Teresa Davila, parlo della visione dell'inferno da parte di Santa Faustina Kowalska così come la racconta nel diario, parlo della visione dell'inferno nel diario della serva di Dio Sor Josefa Menendez, ecco, e potremmo citarne altri, cioè anime mistiche che Dio ha permesso potessero vedere l'inferno. Ma che cos'è l'inferno? Perché guardate che le descrizioni, anche nella visione dantesca, abbiamo una percezione chi è, chi li legge e sente questo brivido di verità, un po' il brivido di verità che percorre la spina dorsale spirituale di tutti quelli dell'unacum, che domani andranno a messa e con tutto il casino che c'è dentro la chiesa, scusate mi è scappata l'espressione, il caos che c'è dentro la chiesa, quando saranno lì tutti i pie devoti a insistere di andare a messa lì perché pensano che c'è il Signore, ad ogni modo quando sentiranno dire dal sacerdote o dal vescovo o da chi che sia ti offriamo questo sacrificio in unione con il nostro Papa Francesco, beh se sono persone che hanno un minimo di dignità, se non altro provano ogni volta che lo sentono dire un brivido, di questo sono certo che scorre nella schiena, un brivido di, diciamo, sospetto, un brivido di paura, un brivido di dubbio, ecco, ecco. Allora, quando te leggi la Divina Commedia ti accorgi, quando Dante descrive l'inferno, che veramente lì c'è qualcosa di vero, di profondo. Vediamo però come San Pio X alla domanda 17 risponde che cos'è l'inferno? L'inferno è il patimento eterno. Attenzione, come vedete che c'è una corrispondenza per opposizione, no? Con la legge del contrapasso. Nel momento in cui si parla del paradiso, San Pio X dice è il godimento eterno di Dio. Guardate quanto è interessante, è assolutamente straordinario San Pio X. Io davvero mi rendo conto che più passa il tempo e più la sua luce risplende per questi nostri tempi. Ci fosse stato San Pio X anche da cardinale, pensate voi, avrebbe fatto i giochi di potere diplomatico che fanno questi. L'inferno, allora, il paradiso è il godimento eterno, l'inferno è il patimento eterno. Eterno è il paradiso con la sua gioia, eterno è l'inferno col suo patimento. E se il godimento eterno del paradiso consiste nella visione di Dio, ieri spiegavamo non solo nella visione, perché non arriveremo mai fino in fondo a comprendere Dio, ma anche nell'entrare in questi processi del mistero trinitario. Dunque, se il paradiso consiste nel godimento di potimento eterno della visione di Dio, l'inferno, dice San Pio X, è il patimento eterno della privazione di Dio. Quindi la teologia di San Tommaso d'Aquino distinguerà la pena del danno e la pena del senso, ma poi vedremo. Ma il motivo fondamentale per cui i dannati in inferno soffrono in eterno, attenzione, in eterno, vi ricordate quell'ingresso di Dante lasciate ogni speranza voi che vi entrate, cioè è eterno l'inferno, ecco. Ed è un dogma di fede, chi lo nega non è più cattolico. Ormai si procede così, io talora dico al Signore, Signore io vorrei andarmene in una grotta, qui ce ne sono tante, forse ormai è troppo tardi, sono troppo inguagliato da tanti punti di vista, pago di persona come non avrei immaginato, ad ogni modo io mi accorgo che questo piccolo resto che soffre come Don Minutella e con Don Minutella è comunque il piccolo resto cattolico, perché ormai si procede per tagli in questo tempo di apostasia. Chi sposa l'eresia non è più cattolico, è tutto qui. Ecco, l'inferno è un dogma di fede, esiste ed è eterno. E però San Pio X, erede della tradizione tomista, aggiunge che l'inferno non solo è la privazione di Dio, immaginate voi, perché fintanto che il peccatore è su questa terra, Satana lo rincretinisce, Satana lo inebetisce con i piaceri del mondo, le cose della terra, per cui non ci pensa o finge di non pensarci. Ma quando poi si muore, l'azione di Satana termina e si entra a te in quel che si chiama ordo veritatis, cioè compari dinanzi a Dio. Allora lì realmente scopri come vanno le cose. dovreste conoscere la storia di Katia Giammona, una cantante, una subrette italo-tedesca, che è andata in una condizione di premorte in inferno e si è salvata grazie alle preghiere della mamma. Ma ha potuto raccontare, aveva visto l'inferno, che si è salvata perché la mamma pregava per lei, ha visto proprio il fuoco in inferno, ha visto Lucifero, ha visto i demoni, ha visto i dannati, capite? Si è salvata perché la mamma offriva, se non ricordo male, le orazioni di Santa Brigida, quelle storie lì, molto importanti, che invece oggi la falsa chiesa, come vedete, clamorosamente snobba, ma non è un caso che snobba perché nella falsa chiesa, io lo dirò fino a quando avrò un minimo di fiato in gola, esiste Satana, mi stupisco che i cardinali, diciamo così, come si dice dalle mie parti, allisciano il serpente, significa giocano col diavolo, questi giocano col diavolo, farebbero meglio a star zitti, giocano col diavolo. Allora, in inferno esiste anche, dice San Pio X, il fuoco. Quindi il primo motivo della sofferenza eterna dell'inferno è l'assenza di Dio, la privazione di Dio, che però non è imposta, ognuno la sceglie. E l'altro motivo della pena del senso, ecco, la pena del senso è quella del fuoco, che il fuoco è una componente preziosa dell'escato, e se c'è il fuoco dell'amor di Dio, in purgatorio questo fuoco è misericordia che purifica, in inferno è giustizia che punisce. Ecco, l'inferno c'è il fuoco, in inferno c'è il fuoco, non lo dice Pinco Pallino, lo dice il catechismo di San Pio X, patrimonio della fede cattolica, riprendendolo peraltro da Santo Maso d'Aquino, in inferno c'è il fuoco che costituisce la pena del senso, fuoco eterno che brucia, che brucia le anime dei dannati, fuoco eterno che costituisce la condanna di Dio, il castigo di Dio per i empi che muoiono nel peccato mortale. Leggiamo del resto in Apocalisse, capitolo 21, versetto 8, per i paurosi, attenzione che c'è anche spazio in inferno per i paurosi, i vili. Vi ricordate che Dante Alighieri, probabilmente con un colpo di coda, diciamo, personale, cioè come una sorta di, come si dice, non mi viene il termine, comunque di restituzione dell'affare relativo a San Celestino V, che per la Chiesa e Santa invece Dante Alighieri lo spedisce in inferno per viltà nel girone dei vili, nel girone di quelli che per paura della verità, di esporsi per la verità, hanno taciuto, sono stati zitti o hanno cercato compromessi e vanno in inferno, appunto gli ignavi, ecco i vili, gli ignavi. E Dante caccia in inferno Celestino V, appunto perché fece il rifiuto per gran viltà, come dice Dante. Allora i primi che l'Apocalisse, diciamo, piazza in inferno è qualcosa che mi colpisce anche per i tempi che stiamo vivendo, sono tutte belli, tutti i proclami e tutti i manifesti della fede sono bellissimi, tutte le lacrime che vogliamo versare, tutte le divine volontà che vogliamo, sono tutte cose belle figlioli cari, tutti i mantelli della tradizione con le messe tridentine celebrate tra Firenze e la Toscana, sono tutte cose molto belle, ma se si tace su chi oggi, come solo Dominutella sta dicendo apertamente, ho visto anche adesso questo monsignor Grasida, se si tace sul fatto che è Bergoglio che sta distruggendo il cattolicesimo e che lui non è pertanto il Papa e allora non serve a nulla. Per i paurosi e per gli increduli, gli esse grandi e gli omicidi, i formicatori, i benefici, gli idolatri e per tutti i mentitori, dice Apocalisse 21,8, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco, così l'Apocalisse chiama l'inferno, stagno ardente di fuoco e di zolfo, c'è anche il tema dello zolfo, che è la seconda morte. San Francesco dirà al Signore nel Cantico delle Creature, liberami appunto, libera noi dalla seconda morte, che è appunto la dannazione eterna. Ora, naturalmente oggi gli esegeti potrete immaginare l'esegesi storico-critica, liberale, se già negano l'esigenza del diavolo, come fa il Cardinal Travasi, chiaro, seguace della massoneria, se nega il diavolo figurarsi se approvano l'esigenza dell'inferno, diranno semplicemente che si tratta di una questione di tipo simbolico, invece no, il Signore nel corso dei secoli fino ai nostri giorni ha scelto non pochi mistici per far vedere l'inferno. Dunque l'inferno è il patimento eterno della privazione di Dio. Dio ci ha creati per contemplarlo, possederlo e goderlo in cielo. Dopo la morte nessuna cosa creata può attirare l'anima che invece tende verso Dio. Invece nell'inferno l'anima è priva di Dio, della sua visione, del suo possesso e quindi del suo gaudio. Allora noi dovremo fare sempre di tutto per stare con Dio. Quando San Domenico Savio a 15 anni prepara il foglio famoso e lo consegna a San Giovanni Bosco, San Giovanni Bosco trova scritto la morte ma non il peccato mortale. Questo veramente dovrebbe dirlo ognuno di noi. C'è quel bellissimo testo di Santa Gemma Galgani che è poi stato anche musicato quando Santa Gemma Galgani dice preferisco che tu mi faccia morire piuttosto che commettere il peccato. Davvero dovremmo dire questo, fioli cari? Anche solo per il dolore di offendere Dio e poi però anche per il timore di finire in inferno. E c'è il fuoco, dicevamo. Il fuoco dell'inferno, dice padre Dragone, per divina volontà ha il potere di tormentare i demoni che sono gli angeli ribelli, i primi abitanti dell'inferno, ma poi anche le anime dei peccatori ostinati perché in inferno ci sono i demoni che sono gli angeli ribelli e ci sono i dannati che sono gli uomini ribelli a Dio. Il dannato è immerso nel fuoco, permeato e quasi immedesimato col fuoco come l'aria che noi respiriamo. I reprobi, gli empi dell'inferno sono anche tormentati da tutti gli altri mali possibili. Provate a leggervi le caratteristiche che nota Santa Faustina Kovasca negli anni 30 del 900 quando viene portata a vedere l'inferno, me mi ha sempre colpito che trova un ambiente di tenebre dove tutto fa dolore, dove tutto fa soffrire, si odono le bestemmie, le urla dei dannati, una disperazione eterna. È qualcosa davvero, figlio di carica, effettivamente suscita la reazione dell'essere umano creaturale che non arriva a comprendere fino in fondo l'ordine perfetto della giustizia divina che assegna ciascuno secondo le proprie opere, ma è un dogma di fede, è un dato di fede e questi dannati soffrono in eterno, staranno in inferno per l'eternità. Sarebbe stato meglio mai nascere, come dice Gesù di Giuda Iscariota, meglio per quell'uomo lì se non fosse mai nato, perché nascere per poi condursi una vita di Gaudio sulla terra e poi morire in inferno. In uno dei miei viaggi, mi ricordo, mi sono fermato in Toscana in una trattoria, in un ristorante per pranzare e si è seduto di fronte a me, io sono sempre in talare, fin tanto che non me la tolgono, perché magari accadrà anche questo, e c'era un signore seduto lì con una Ferrari, era arrivato, si vedeva faceva il borioso, è seduto con un paio di signorine, ho capito tutto, quando sono andato via, io ho chiesto in cuor mio un segno che se lui mi salutava io l'avrei avvicinato, mi sono alzato per andare via e sono passato apposta accanto e lui mi ha detto buongiorno, con un tono un po' ironico, allora ho detto questo, mi sono avvicinato, io ho detto posso darti una coroncina del rosario, te mi hai preso in giro, io ho detto tutto il tempo con le tue allieve, ma ricordati che quando lascerai questa terra Dio ti chiederà conto che fine fai, guardate che se quando noi preti diciamo queste cose con forza, la gente non, e lui non ha avuto il coraggio di dire nulla, è rimasto in silenzio, ha preso la coroncina e chissà che quella cosa lì non l'abbia fatto convertire, attenzione quindi, perché tra i massimi tormenti in inferno oltre il fuoco c'è la disperazione, l'odio vicendevole tra i dannati, come in paradiso i beati si amano tra di loro, in inferno i dannati si portano odio l'uno con l'altro, mi ricordo una volta avere assistito a un esorcismo di un esorcista di Palermo e sono rimasto impressionato perché c'era un paio di persone possedute che quasi si sbranavano tra di loro, io ho chiesto all'esorcista come mai, lui mi rispondeva che era perché i posseduti portano dentro la presenza dei demoni e i demoni tra di loro si sbranano come quando dei cani nemici, come vedete, tra di loro appunto si sbranano, le pene, le umiliazioni inflitte dai demoni, l'immobilità, le tenebre e dunque l'inferno è patimento eterno, non è vero che prima o poi termina. La scrittura parla chiaramente, Apocalisse 14,11, non hanno riposo né giorno né notte, Apocalisse 20,10, saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli, come vedete già la scrittura parla con molta chiarezza e poi Marco 9,43 parla del fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore, il fuoco non si estingue. Concludiamo con l'esempio che porta padre Dragone. Si racconta che mentre si cantava all'ufficio dei defunti per un tale dottor Diocres dell'università di Parigi, alle parole risponde Michi, rispondimi, dal feretro, dalla bara uscì una voce lugubre che diceva, da dentro la bara usciva fuori questa voce, per giusto giudizio di Dio sono stato accusato. Dopo una sospensione piena di paura fu ripreso da capo il canto dell'ufficio. Giunti nuovamente alle parole in latino, risponde Michi, si ripete la voce, per giusto giudizio di Dio sono stato condannato. Parve che il cadavere si muovesse, ma dopo un attento esame se ne costatò la rigidità, perché la bara non era ancora chiusa. L'ufficio fu sospeso e ripreso all'indomani. Alle parole l'indomani, risponde Michi, il cadavere si agitò, si pose a sedere e disse con voce straziante, per giusto giudizio di Dio sono stato condannato all'inferno. Poi ricadde e non si mose più. Tutti furono vivamente impressionati, ma specialmente Brunone, professore dell'università, che abbandonò la brillante carriera, si ritirò nella solitudine, fondò l'ordine religioso dei certosini e divenne santo canonizzato dalla Chiesa. Quindi l'ordine dei certosini, questi per quelli che dicono che questa è roba medievale, che non è vera, per cui l'ordine dei certosini, fondata da San Bruno, nasce a seguito di questa esperienza traumatica che San Bruno ha vissuto, lui che studiava all'Università di Parigi, nel vedere uno dei più eminenti docenti universitari morto d'improvviso, dover dichiarare che era in inferno. Che la Madonna, carissimi, ci protegga sempre dal peccato mortale e ci aiuti a rimanere in grazia di Dio. Se volete, stasera ci sarà la Catechesi. Mi domando a quanto serva, non per voi che mi seguite, cari miei, ma per come sta andando adesso nella Chiesa, dovere denunciare di continua verità, ma facendo nomi e cognomi, quando tutti invece si parano, quando tutti invece si tutelano e tra lacrime, divine volontà e manifesti vari, ognuno continua a percorrere la sua strada. Sembrerebbe che l'unico fesso che ha giocato tutto continua ad essere Don Minutella, che però evidentemente per questi tali è soltanto uno, imbarazzante, di cui è meglio non parlare. Sia lodato Gesù Cristo, benedicato vosso dipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Santus. Amen.